E' fallito l'assalto ad un autotrasportatore alla guida di un grosso automezzo che trasportava Scarpe, tentato questa mattina sull'autostrada 16 tra Candela e Cirinola Ovest. L'assalto è fallito per la pronta reazione dell'autista del mezzo pesante che è riuscito a fuggire e a chiamare i carabinieri. I banditi, secondo quanto emerso dalla prima ricostruzione degli investigatori, avrebbero posto sulla carreggiata due automobili, incendiandole per bloccare il tratto di autostrada, impedendo così l'arrivo anche dei mezzi delle forze dell'ordine. Mentre l'autotrasportatore sarebbe stato seguito da una BMW di colore nero, con a bordo i rapinatori, che però sarebbero stati costretti a fuggire verso il casello autostradale di Cirinola Ovest. Decisiva dunque è la reazione dell'autista, che non si è fermato e ha proseguito la corsa costringendo i rapinatori ad abbandonare il loro intento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e gli agenti di polizia. L'autostrada è stata liberata dopo alcune ore.